Allora amica, carica per le lezioni di oggi? Eh, c'è ancora tutti i dolori dall'ultima volta Però una bella notizia Dovrebbe essere arrivato adesso in studio L'uovo di Pasqua che ho preso per noi Ma che topo amica, e quale hai preso? Pur di avere quello della sirenetta Che è il nostro preferito, ho fatto una ricerca estenuante Ho preso quello più pesante In tutto il mondo Ma come è più pesante? La sirenetta mi ha detto mille volte che è col bui leggero Ma no, ma come? Quindi cosa ci sarà dentro il nostro? Non lo so, nemmeno vedere Vai amica, aprila tu Apro? Sì È pesantissimo Te l'avevo detto perché c'è la sirenetta Vediamo Ci provo io Vai Ma che modi sono? Ma che cazzo di sirenetta è? In edizione limitato puoi trovare anche Barbie, sirena, pole dancer Crespera la coda come la pelle di un serpente Barbie, sirena, pole dancer, vi auguro buona Pasqua